Bella vecchi dramani, bentornati a tutti i miei ragazzi Siamo tornati con un nuovo pack opening Perché i nostri pack opening sono noiosi Però ve li guardate comunque Ci sono i pacchetti da 35.000 E ce ne stanno 5 Quindi apriremo 12 o 5 questi pacchetti Sperando sempre di trovare qualcuno ovviamente Perché non è che sappiamo prima Se troviamo la gente, quindi non parte E poi in caso apriremo qualche altro pacchetto da 7.500 Se ci dice bene, se ci dice male, vabbè Comunque vai, il mio pacchetto a te Vai! Ma gioveremo qualcuno Ooooooooh Lucas, io ho visto che ho detto Cosci e il nico, sono gli unici due giocatori che abbiamo trovato Questa è la nostra fortuna ragazzi Vai, poi il nico Però le forme fisiche che servono, quindi ok Spreghi perché, cioè, non ci sta Cioè, non ci sta Cari e con Barclay E vabbè, così, il piovecchetto è andato Adesso ne apriamo 1 Oro Oro Oro, 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 oro Staglio d'oro Staglio d'oro Vai! Vai con la pa Sbò Incredibile Hilton come l'atel e poi abbiamo trovato il figlio Il fake di Pelé Il figlio legittimo Il figlio legittimo Il figlio legittimo Il figlio legittimo di Pelé Il figlio legittimo di Pelé Quindi è bianco infatti, l'avete visto Hilton Fernandez è il pallone Beh, ci sono per cui il valido più di un idrofico Capito Però non per le volte il figlio Il figlio di Pelé Il figlio legittimo di Pelé Il figlio di Pelé Il figlio legittimo di Pelé Sbam 35 000 Sbam Oh Lui è che sta Se che si sa Oh Ma perché io li vido Il figlio Il figlio Il figlio Il figlio guadagnolo a teori traurè si su un colore che non è molto simpatico un po traurè che ne stavano pure troppi chi dica ma perché tutti stessi tutte queste bombe deforme visi e contratti ma io sono 8 mila vatici riscatta oggetto e poi non fare la ricapela e daviduris incredibile a casa di marcos se non è troppo forte per me benvenuti o iuaini 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 il tiro e carvaio intercetta dai infatti dentro nessuno casso carvalho che il fratello scuro e noi cugino informati però non è fake comunque non è carvalho fake o attenzione questo è il terzo ultimo un po' stai già con un uomo un po' di napoli o o vera bulanus guglianno ciao bulanus ahah ciao fuori dal rubric ciao ma un guglianno puoi dare con solo poi c'è un palazzo la bestia il baggato guglianno è poco americano guglianno è il fratello di quello che gioca a poker no è lui è lui un uomo sony e pulsanchez o se c'è volai e quindi un uomo christian ma si ma si spegniamoci fama a uoci fama a ua strano buono uoci uoci e buono uoci ultimo uoci uoci il padre mi fa detto si è vero di fila la ragazza un'altra domanda un uomo di video e comprare per me ma non è il per sempre un ritorno a rome se non è da non è che non è solo ora mi ci voglio dire io ho un uomo che c'è l'abbiamo trovato due volte l'altra volta in questa terza c'è una vecchia di calzone niente c'è il scattolo ma guarda, 2007, tu vedi e tu vedi lo scartico quanti ce n'hai in modesti? io nio non ce n'ho credito oh, facciamo un pacchetto di argento ma su serio? è una pesa per culo oh, capo perchè... l'uomo con meno vocali nel mondo suona montolivo oh, Keita cerci Keita ultimo pacchetto rimasto ma prima di aprire quell'argento ma non sta qua, devi andare su i miei pacchetti olé olé quello argento ma non ho conquistato ma vabbè eh vabbè eh vabbè no, 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 no vabbè vinter fa freddo poi che... del... attenzione, ultimo pacchetto dai oddio, io mo comincio a fa così mi fa amico l'oro allora dai vai alba vai oh, oh, oh che vale niente tanto te vado a vedere cos'olora è una bestia c'è quant'altro di velocità ebbè è un me che è la velocità della tua migliore che cazzo è di 58 cioè metti sul mercato da esperimenti confronta vai in cazzo confronta price bello eh ma sei mi voto o vado in voto ma che sia si sa perché 5 milioni vabbè allora io direi ti mandato al club come tutti diciamo abbiamo trovato anche game road ultimo pacchetto ma prima pubblicità ma per quanto è andato la e tipo come mi hanno messo a me ehi tu prima pubblicità ma prima ma prima Perché il pacchetto oro? L'ho aperta adesso il pacchetto oro Ma bene, c'è a Zad Quindi dici che lo ritroviamo Giusto Giustamente Sant'On Delinte Che terzino, ragazzi Un po' forte, non c'è cazzo Oh, ma sto cucciuc, si trova sempre Sì, sì, stavano, ho trovato i guai dei pacchetti del bronzo Vai, vai, vai Da, da, da Oh, Luca Scusi, nuovo Luca Ma la cu Non ce la voglio, credi Quindi tanti contratti e nessuna forma fisica, per capire Porca due Montagnes Che riscala, tu ti capito Le montagnes No, avrei entrato un cuci Avrei entrato un cuci Ma è secondo me, vai, in ogni pacchetto Vabbè, dai, mattinez Andava detto Ok Poi dite che siamo noiosi Vabbè, non puoi aprire l'ultimo, voi dici Intanto fai l'altro, vai Ragazzi, adesso è tutto, mi raccomando, lasciate un like per questo video In descrizione ci sono i nostri Instagram Ci sono i nostri Ah, ciao, ciao In descrizione ci sono i nostri Instagram e i profili privati Facciamo una Facebook passata a tutti quanti se non l'avete ancora fatto Noi ci vediamo al prossimo video E lasciate tanti like Ciao Se non trovo nessuno Non trovo nessuno Non trovo nessuno E anche noi vorremmo trova qualcuno Forza, veramente Quindi, bella Ciao, ciao Oh, attenzione Oh, attenzione Oh Eeeh Oh, Dio Mottino Mamma mia Mamma mia Sobrica Potinho Che buccio di culo Che usiamo Guardate che entro mai in cazzo Cioè Guarda quanto costava Mamma mia Vabbè, tanto penso che comunque useremo Cioè Alla fine Mamma mia No, eccola Cioè